Volevo con queste poche parole mandare un saluto a Claudio, al professor Bassi, perché oltre a una perdita professionale molto importante per la nostra azienda, perdiamo un grande uomo e ci accomunava la passione per la musica e la passione per il bene dei pazienti, con una particolare sua attenzione anche ai parenti dei pazienti che venivano accolti anche in strutture collegate all'Istituto del Pancras. Quando si andava in giro per il mondo e si diceva io vengo da Verona, era automatico da parte dei colleghi, da parte di tutte le persone che si incontravano, ti chiedevano vieni dalla città dove lavora il professor Bassi. Era sostanzialmente non solo un grande clinico e un grande chirurgo, ma un grande uomo.